Ciao a tutti! Cosa non hai il coraggio di dirmi? Scegli il mazzo di tarocchi che ti attrae di più. Allora farò un interattivo perché molto spesso ci sono delle persone che non sanno, cioè non ci dicono delle cose, non ci dicono delle cose che noi vorremmo sapere, mantengono dei segreti all'interno di una relazione. Purtroppo questo capita anche molto spesso, che ci siano dei segreti, delle cose non dette e quindi poi ci feriscono, ci fanno molto male. Allora è importante capire che cosa questa persona può tenere nascosto in una relazione, ma anche in un'amicizia, ma anche in una relazione, diciamo, lavorativa. Quindi se temi che qualcuno o a livello sentimentale o a livello familiare o a livello di amicizia possa avere dei segreti, possa tenere nascosto delle cose, possa non dirti qualche cosa che in realtà per te sarebbe molto importante sapere, allora segui questo video e scegli il mazzo col quale istintivamente viene attratto. Metterò tre mazzetti e scegli quello che istintivamente ti attrae di più. Prima però ti ricordo di iscriverti al canale, attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video, di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se vorrai su questo canale è disponibile un abbonamento che ti consentirà di ricevere delle risposte precise alle tue domande. Allora abbiamo mescolato le carte, tagliamo e giriamo. E adesso farò tre mazzetti e tu dovrai scegliere uno. Ci sarà il mazzetto nero, il mazzetto blu e il mazzetto rosso. Quindi starà a te scegliere quello che preferisci. Allora, bene, quindi abbiamo tre possibilità di scelta. La scelta nera, la scelta blu e la scelta rossa. Ora ti chiedo di fare una scelta, appunto. Prendi tutto il tempo che ti serve. Io farò la prima lettura nera, poi la seconda lettura blu e la terza lettura rossa. La domanda è cosa non hai il coraggio di dirmi? Quale segreto mantiene? Che segreto ha? Cosa non hai il coraggio di dirmi? Che segreto ha? Allora, ti ho lasciato il tempo, eventualmente stoppa il video e poi fai la scelta. Comunque, togliamo i due mazzetti che non prendo in considerazione per ora e rimaniamo con il nero, il mazzetto nero. Allora, vediamo un po' che cos'è che ci dice. Ah, prima carta, andiamo subito sulle spade. Andiamo subito sulle spade. Quindi, vuol dire che intanto ci stai dicendo che un segreto spinoso e pungente c'è, perché abbiamo il nove, il nove di spade. Il nove di spade è una carta che ci porta comunque al fatto che c'è qualcosa di importante che tiene nascosto e che potrebbe ferirci. Perché ricordiamo che le spade rappresentano anche la ferita, rappresentano anche come una persona colpisce, ci può colpire. Quindi c'è qualcosa che ci potrebbe ferire, che lui o lei si tiene nascosta. E viene subito fuori il tre di denari. E col tre di denari ci ricorda che probabilmente queste ferite, diciamo così, potrebbero essere dovute a questioni economiche, questioni di soldi. Il tre di denari rappresenta proprio la materialità, ma anche rappresenta anche la triade, perché il tre rappresenta anche la triade. Quindi è probabile che ci sia un'altra persona di mezzo, in qualche modo connessa a noi, che in qualche modo ci sta, possiamo dire, sta controllando un po' la situazione. O è una terza persona che lo tiene, tra virgolette, per le palle, insomma. O la tiene per le palle. Oh, bene, bene. Abbiamo un'altra, un'altra carta, molto, molto importante. Abbiamo, abbiamo l'asso, l'asso che ci fa capire un'altra cosa importante, che va a confermare, va a confermare proprio il discorso della materialità. Va a confermare proprio il discorso della materialità, sempre legata proprio a questioni economiche. Quindi c'è un segreto economico, qualcosa legato ai soldi che ti tiene nascosto. E poi abbiamo il re di coppe girato. Ecco, il re di coppe girato rappresenta anche appunto una persona maschile che da un punto di vista sentimentale in qualche modo potrebbe ostacolare. E' uscito girato, potrebbe essere un ostacolo anche molto grande e un frammisto, diciamo, tra amore e soldi, sentimenti e soldi. Quindi il problema è comunque sui soldi e c'entra in qualche modo anche una sorta, potrebbe essere un antagonista, potrebbe essere un ostacolo proprio legato a questa caratteristica del re di coppe. Vediamo un attimino. E infatti continuiamo sulle coppe, continuiamo sulle coppe sul 5. Quindi, i tarocchi ci stanno dicendo, c'è una questione spinosa che potrebbe, una qualcosa che potrebbe ferirti che non ti sta rivelando la persona. Questa qualcosa che potrebbe ferirti è legata ai soldi e potrebbe centrare anche un'altra persona. Ti conferma che il proprio, il problema è legato ai soldi e per quanto riguarda i sentimenti, c'è una persona di sesso maschile potente che si oppone a te e conferma poi che si tratta proprio di sentimenti. Si tratta proprio di sentimenti. Quindi questo connubio, diciamo, tra amore e soldi. E infatti abbiamo poi la torre, la torre che esce fuori che ci conferma che tutto questo porterà a una rottura. A una rottura che non sarà totale, diciamo così, perché la torre è uscita al contrario, quindi attenua un pochettino le sue caratteristiche, però sarà comunque una rottura che si manifesterà. E l'ultima carta ci sta dicendo che è la temperanza. La temperanza vuol dire che se tu vuoi ottenere qualche cosa devi comunque avere pazienza. Non è un qualcosa che si esaurirà nel breve tempo, ma soltanto la pazienza. La pazienza vuol dire non lasciarsi prendere dalla rabbia. La temperanza è proprio il contrario della rabbia. Non devi farti prendere dalla rabbia perché se ti vuoi prendere dalla rabbia rovinerai completamente tutto. Quindi per questa prima stesura abbiamo proprio che c'è un segreto, segreto legato ai soldi che andrà di fatto a rovinare poi i sentimenti. Non devi farti prendere dalla rabbia perché altrimenti per te non ci sarà via d'uscita. E questo è per quanto riguarda la prima, la nera. Adesso passiamo alla blu. Passiamo alla blu. Per chi ha fatto la scelta blu? Allora, vediamo un po'. Allora, partiamo anche qua dalle spade. Quindi il due di spade è proprio ancora peggio dell'altra. Cioè c'è un grande segreto, un segreto molto forte, un segreto veramente importante. C'è qualcosa di molto importante che potrebbe ferirti anche grandemente che lui sta tenendo nascosto. Oh, sembra un ricalco al peggiorativo dell'altra girata. Perché quindi pare che proprio i soldi siano le cose che vanno per la maggiore. Qui i soldi rappresentano appunto anche la solidità economica. Forse il quattro rappresenta anche la solidità. Forse il segreto che ti tiene nascosto può essere, andiamo a vedere. E comunque qualcosa legato ai soldi potrebbe essere una solidità che ha millantato e che in realtà non esiste. Questa solidità che lui ha o che lei ha millantato, in realtà la situazione non è così solida, diciamo così, come apparentemente potrebbe sembrare. Questa è una possibilità. E poi abbiamo il giudizio. Il giudizio che è un'altra carta, quindi il timore di essere giudicato. Quindi c'è un segreto che potrebbe ferirti legato ai soldi e questa persona comunque teme anche il giudizio. Teme il giudizio, teme che tu probabilmente possa esprimere un giudizio negativo nei suoi confronti e quindi utilizza questo sistema. E poi e poi torniamo con l'otto, l'otto di spade, quindi che va a rinforzare il fatto. Siamo passati dal 2 all'otto. L'otto rappresenta anche il ciclico, l'infinito, quindi è un qualcosa che continuerà a ripetersi. Quindi questa persona non l'ha fatto la prima volta, ma continua a farlo, continuerà a fare, a mantenere questa cosa, a mantenere questo segreto nei tuoi confronti. E qua abbiamo il mago. Quello che ti salva, in questo caso, è una nuova ripresa. Devi riprendere, devi ripartire. Se non riparti, devi ripartire da un'altra situazione. Quindi il mago ti fa capire che la soluzione per venire fuori da questa cosa è trovata in alto, praticamente. Oppure fare un periodo di solitudine. Comunque è una relazione quella che devi chiuderla. Qualunque, di qualunque natura essa sia, ti star consigliando, piuttosto che riprendere, imbarcarti in un'altra storia, devi fare un periodo di solitudine. Un periodo in cui recupererai le tue energie. Un periodo di introspezione. Guardare dentro di te. E vediamo l'ultima carta. Oh, che è anche una bella carta. È la ruota della fortuna. Quindi tu riuscirai nel tuo intento. Però devi avere un nuovo inizio. Questa persona che ti mantiene, è un segreto troppo grande, un segreto troppo distruttivo. L'unica possibilità che hai è ricominciare da capo, riprendere da capo. E oltre a riprendere da capo, devi proprio cambiare il tipo di situazione. Devi chiudere con quella persona, fare un periodo di silenzio, diciamo così, di introspezione, di solitudine. E poi potrai riprendere molto bene la tua... Potrai riprendere molto bene, potrai ripartire molto bene, perché la fortuna è dalla tua parte. E questa è la seconda stesa. La stesa blu. Adesso veniamo alla terza stesa, che è quella rossa. Allora, la stesa rossa, vediamo chi ci dice, chi ha scelto il rosso. Veniamo quindi alla stesa rossa. Chi ha scelto il rosso. Allora, iniziamo subito con la regina di denari. Oh, qui partiamo subito con... Sempre la regina di denari rappresenta la solidità economica, rappresenta la forza. Quindi, potrebbe esserci sicuramente un segreto. Non è detto che sia un qualcosa che ti possa però ferire più di tanto. Anzi, talvolta potrebbe essere anche nel positivo. Magari non ti ha detto qual è... È sempre legato al denaro, alla forza, alla solidità. Non ti ha detto forse magari esattamente tutte le sue capacità. E infatti abbiamo il cavaliere, il cavaliere di coppe, legato all'amore, che esce al contrario. Quindi probabilmente più che al denaro in sé, perché abbiamo la regina e il cavaliere, rappresenta il fatto che non ti ha portato, diciamo, questo è uscito anche al contrario, non è stato sincero proprio sui suoi sentimenti. Questo è la sincerità legata proprio ai sentimenti. E infatti abbiamo proprio che il 3 il 3 di coppe va a confermare che questa insincerità è legata ai sentimenti. Ci potrebbe essere un'altra persona di mezzo. Comunque in realtà per ora potrebbe anche non essere un diciamo un segreto letale che potrebbe far fallire la relazione in qualche modo. E poi infatti abbiamo sempre un fante, un fante di denari. Anche il fante di denari, abbiamo la regina di denari, il fante di denari, al contrario. Quindi è un qualcosa che avrebbe potuto dirti. Però il fante rappresenta anche il fanciullo. Quindi rappresenta anche diciamo se vogliamo un peccato vegnale, diciamo. andiamo su un qualcosa c'è ma non di non veniare. Che però se non lo prendi in considerazione potrebbe anche diciamo influire anche il 4 di bastoni potrebbe anche influire sulla vostra se c'è una relazione di coppia o il bastoni potrebbe rappresentare il 4 di bastoni rappresenta la solidità da un punto di vista anche fisico anche sessuale anche passionale il bastone il segno di fuoco quindi rappresenta anche proprio la passionalità rappresenta anche la capacità di vivere in modo forte la passione quindi questo potrebbe essere anche quello che va a bloccare da un certo punto di vista quindi controlla che questa cosa tenuta nascosta potrebbe logorare diciamo anche un po' la la passionalità infatti ci dice che passionalità il sentimento il 4 è uscito il 4 di bastoni poi il 4 di coppia sempre il 4 che rappresenta il simbolo della stabilità quindi eventualmente questo segreto potrebbe possiamo dire destabilizzare un pochettino la stabilità affettiva e passionale nell'ambito di una relazione e se non si prenderanno delle decisioni ci potrà essere un come dire un colpo molto secco inferto dal cavaliere di spade quindi diciamo che rispetto alla relazione precedente ti sta dicendo qua ti stanno dicendo i tarocchi che questa situazione va affrontata se l'affronti la potrai superare tranquillamente se non l'affronti se non riesci ad affrontarla ci potrà essere una ferita che andrà a ricrescere quindi o potrà manifestarsi quindi i tarocchi qua ti stanno dicendo che non devi procrastinare ma devi agire agire per risolvere la situazione è come un dente che se tu lo prendi in tempo appena si forma una carie riesci a guarirlo se lasci passare del tempo poi non lo non lo guarisci più la ferita può essere molto forte bene lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco metti un like se il video ti è piaciuto se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che se questo canale è disponibile all'abbonamento se vorrai abbonarti potrai farlo ricevendo delle risposte precise e mirate le tue domande ciao a tutti